Eccoci pronti per la nostra rassegna stampa questa mattina. Buona giornata da Massimo Foghetti. Oggi è venerdì 29 aprile 2022 e ancora siamo alle prese con la guerra in Ucraina. Questa mattina i giornali si fanno un interrogativo, si chiedono ma veramente Putin ha l'arma segreta? Ci sono diverse minacce che vengono lanciate, useremo armi speciali, qualcuno paventa anche l'uso della bomba atomica, ce ne sono tantissime rivolte verso l'Occidente, ma a questo punto che cosa accadrà? Intanto alcune città vengono assediate per fame, vengono prese per fame coloro che si trovano all'interno più che per le bombe, ma le bombe ancora continuano a martoriare quella terra che è veramente in una situazione drammatica e di questo parlano questa mattina le prime pagine dei giornali a carattere nazionale. Ma davvero Putin? Alarma segreta? Punto in interrogativo. Noi invece ci fermiamo alle pagine locali dove ovviamente la situazione è più serena, anche se molte famiglie cominciano a nutrire parecchie difficoltà per quanto riguarda la situazione economica derivante appunto dalla guerra in Ucraina. Vediamo intanto qual è il santo del giorno. Il santo di oggi è un santo molto famoso, addirittura Santa Caterina da Siena, la santa patrona d'Italia. Molte donne hanno il nome di Caterina. Caterina fu una donna antelitteram per quanto riguarda il suo tempo. Non fu una donna remissiva, non fu una donna sottomessa, ma fu una donna che osò l'ardire di confrontarsi con i personaggi più noti del suo tempo. Patrona d'Italia, terziaria domenicana, una vita santa piena di mortificazioni, ma la sua dote più incisiva fu la sua capacità, lei piccola e umile donna, di confrontarsi con principi e pontefici, a cui indirizzò più di 300 lettere, invitando, confrontandosi anche con il Papa che era ad Avignone per che tornasse nella cattedra di San Pietro a Roma. Esortò dunque il Papa ad abbandonare la Francia. Il suo corpo ora riposa nella chiesa di Santa Maria sopra Minerva a Roma, nelle vicinanze del Pantheon, mentre il suo capo è la preziosa reliquia che si trova nella chiesa di San Domenico a Siena, Santa Caterina da Siena. E veniamo al tempo, il tempo è oggi, è un tempo buono, un tempo primaverile, lo vediamo nella grafica. È un tempo assolato, tempo stabile, soleggiato su tutta la regione con cieli, ovunque sereni o poco nuvolosi, clima mite, massime attorno ai 20 gradi, venti sulle coste da direzione media di nord e nord-est, mentre per quanto riguarda l'entroterra i venti spireranno da nord-est, le temperature oscilleranno appunto dai 12 ai 20 gradi per quanto riguarda le massime. E a questo punto apriamo il giornale, apriamo il giornale sulla pagina di Fano, abbiamo il Corriere Adriatico, dove si parla, dove si parla del nuovo progetto della Biblioteca Federiciana, un progetto moderno, contemporaneo, avveniristico, possiamo dire, che è stato redatto dal architetto Cuccinella, un architetto famoso a livello nazionale, un progetto che ha subito suscitato la meraviglia di coloro che l'hanno esaminato, però ci sono anche delle tesi contrarie. Per esempio hanno avanzato una osservazione alla variante, al piano particolareggiato del centro storico che doveva essere approvato per autorizzare la realizzazione di questo nuovo palazzo, attaccato alla Biblioteca Federiciana, la famiglia dei Castracane. Un'osservazione che tende a dimostrare come questa nuova superaffettazione che si unisce a un palazzo storico del 1600, moderna, molto evidente, con un impatto ambientale considerevole, un'altezza molto molto preeminente rispetto agli edifici circostanti, ma si concilia con quello che appunto i regolamenti, le norme dovrebbero autorizzare per quanto riguarda il centro storico. È stata un'osservazione comunque che è stata respinta dai tecnici dell'ufficio urbanistica, ma che costituirà senz'altro motivo di discussione all'interno del Consiglio Comunale quando il progetto verrà proposto all'approvazione. Federiciana, i Castracane, no al progetto Cucinella, l'osservazione della storica famiglia contro la variante urbanistica per la biblioteca. E poi si parla di un'iniziativa, un evento, un evento molto importante per chi viene ripreso dopo due anni, un evento che si svolgerà domenica prossima, primo maggio, a Torrette. Si tratta di motori a mare, motori a mare che attirerà molti appassionati di motori, di auto storiche, di anche moto storiche. Collaborano a questa iniziativa anche il Vespa Club di Fano con le sue Vespa appunto Dantan e collaborerà anche il Motor Club Lucio Ricci, una delle istituzioni più antiche fanesi per quanto riguarda la passione dei motori, ma verranno anche da altre regioni a Torrette domenica per coltivare la loro passione, per ammirare le belle signore dei tempi andati. E poi ci sarà ovviamente musica, gastronomia, giochi per bambini, insomma tutto quello che occorre per passare un primo maggio bello, spensierato, tranquillo, sulla riviera Fanesi, in una delle più belle località del nostro territorio, così come è diventata Torrette. Rincari dei carburanti, sanzioni della finanza a due distributori. Ebbene la finanza di Fano ha fatto un giro nei distributori negli ultimi giorni e ha trovato parecchie irregolarità. Sono emerse nelle stazioni di servizio che rientrano nella categoria delle cosiddette pompe bianche, ovvero dei marchi meno conosciuti, non legati ai marchi più famosi, meno note ma più esposte al rischio di prestare il fianco alle speculazioni. Sono stati notificati condotti illeciti per quanto riguarda l'esposizione dei prezzi per le omesse comunicazioni all'osservazione carburanti del Ministero dello Sviluppo Economico. Si tratta di reati di carattere amministrativo. In un caso le fiamme gialle hanno riscontrato le violazioni di carattere puramente fiscale in materia di accese. Insomma, sono questioni di irregolarità al momento. Non sembra che abbiano alterato i prezzi nei confronti appunto dei consumatori. C'è un problema per quanto riguarda il rapporto tra appunto i benzinai e lo Stato e per questo vengono multati. Ora spuntano le collinette nel grande parco urbano dell'aeroporto. Qui le cose si stanno muovendo a fatica. Anche il Consiglio Comunale di ieri sono stati accusati dalla stessa maggioranza dalla lista in comune che fa parte della maggioranza dei ritardi. Per quanto riguarda la realizzazione del secondo e terzo stralcio del parco urbano dell'aeroporto. Ebbene, oggi si vede qualcosa, si comincia a muovere. Si vede qualcosa perché il panorama dell'aeroporto è mutato, specialmente per quanto riguarda il profilo altimetrico. Insomma, non è più quella tavolata piana che si si vede appunto in questo grande spazio dell'aeroporto, ma sono stati depositati cumuli di terra. Cumuli di terra per movimentare appunto il profilo del parco urbano una volta che sarà compiuto. Cambia il profilo dell'area del campo d'aviazione, ma i lavori sono in ritardo. Speriamo che vengono accelerati al più presto. La strada Tratturo si asfalta, ma ora sarà solamente a metà e siamo nei pressi di Fossombrone, in modo particolare nella frazione di San Pietro in Tambis, dove verrà realizzato il tanto atteso rifacimento della strada che appunto conduce e parte da questa località. e verrà finanziato quest'anno dal comune di Fossombrone. Vediamo una foto della strada, così come oggi. Vediamo come questa parte è veramente degradata. E poi due iniziative a Fossombrone, due importanti appuntamenti in programma domani nella città metaurense. Alle 11 nella sala consigliare c'è la presentazione e la successiva inaugurazione nell'atrio della Fondazione Monte di Pietà della mostra di icone sacre realizzate dai reclusi del carcere di Fossombrone. Mentre alle 17 nella quadreria Cesarini il Rotary Club di Urbino presenta il libro Anselmo Bucci Schiocchi di Frusta, brani tratti dall'autobiografia Pane e Luna con riproduzioni di incisioni dell'autore della collezione Cesarini di Fossombrone. Anselmo Bucci è uno dei pittori più noti, uno degli artisti più noti appunto del nostro territorio. Vediamo anche la pagina di Senigallia dove il comune prende provvedimenti per quanto riguarda le irregolarità, per quanto riguarda le deviazioni all'ordine pubblico. Per gli ubriachi c'è il daspo urbano e i parcheggiatori abusivi sono anche nel mirino. Sono previsti due giorni di interdizione dalle lungomare al centro per atti contrarie alla pubblica decenza. Ebbene i prossimi provvedimenti interesseranno il daspo urbano che verrà esteso anche ai venditori ambulanti e ai parcheggiatori abusivi. È stato introdotto nel regolamento di polizia urbana prodato mercoledì pomeriggio in commissione. Ebbene questo prevede, questo daspo urbano, l'allontanamento per chi commette determinati illeciti, lo specifica il sindaco Massimo Olivetti. Per esempio chi dà fastidio nei casi di ubriachezza molesta, chi compie atti contrari alla pubblica decenza, chi svolge commercio ambulante senza l'autorizzazione e chi attività abusive di parcheggiatore alle sanzioni poi già previste si va ad aggiungere l'allontanamento appunto il daspo dal luogo in cui si è stato commesso l'atto illecito. Quindi c'è un giro di vite per quanto riguarda la tutela dell'ordine pubblico a Senigallia. Sulla pagina di Pesaro del Corriere, anzi vediamo la pagina delle Marche soprattutto per quanto riguarda il Corriere Adriatico perché dal primo maggio ci sono nuove disposizioni per quanto riguarda la tutela della salute e la lotta alla pandemia. Mascherine al chiuso per cinema, teatri, palasporti e trasporti. Le regole dal primo maggio, obbligo prorogato dal Ministro della Salute, Speranza, fino al 15 giugno. Nel luogo di lavoro l'utilizzo delle protezioni è solo raccomandato, saranno invece ancora necessari negli ospedali e nelle residenze per anziani. Vediamo un attimo questo articolo e vediamo come la mascherina resterà obbligatoria fino al 15 giugno nei cinema, nei teatri, nelle sale da concerto, nei palazzetti dello sport e locali di intrattenimento con musica dal vivo. E poi anche negli ospedali, nelle strutture sanitarie e nelle RSA, a bordo dei treni, negli aerei, bus, tram e metropolitani. E poi anche nelle scuole. La mascherina invece sarà solo raccomandata nei luoghi di lavoro pubblici e privati e in tutte le situazioni con rischi di contagio, bar, ristoranti, negozi, supermercati e centri commerciali. Ognuno la usi secondo il suo giudizio ma soprattutto secondo il suo il senso di responsabilità. E per quanto riguarda i contagi vediamo che c'è un balzo e una frenata. Solo quattro pazienti covid soggiornano nelle terapie intensive. La situazione è notevolmente migliorata rispetto agli ultimi giorni. C'è una leggera flessione della curva dopo sette giorni di crescita. I ricoveri comunque sono in calo. Sulla pagina di Pesaro vediamo che gli albergatori sono a caccia di parcheggi. Una necessità veramente fondamentale per riuscire ad accontentare la loro clientela che giunge in macchina appunto negli alberghi e poi non sa dove parcheggiare se non nei parcheggi a pagamento. Alberghi a caccia di parcheggi privilegi per quelli a ponente nel versante del porto Villa Marina garantisce tanti posti auto. Le richieste di APA per quanto riassociazione appunto degli albergatori per il Levante e poi al Santa Marta venti stalli in più premessi in via la marca e stop alla sosta selvaggia dei motorini. Tutto questo rientra nelle richieste degli albergatori soprattutto per quanto riguarda la sosta in zona mare. Pochi fondi per le asfaltature. Le aziende rifiutano i lavori. Risulta già insufficiente l'investimento di un milione e 300 mila euro disposto dall'amministrazione comunale. Poi qui c'è tutto il problema dell'assegnazione dei lavori, dell'aumento dei prezzi, della stasi, dei lavori stessi. Cominciano in ritardo un po' il tempo che non lo permette e poi magari le lungaggini e le difficoltà. Insomma un problema delle asfaltature che si ripercuote di città in città in tutta la provincia. Invece qui c'è una bella notizia. Marche Nord stabilizza 21 addetti precari. Fanno parte del piano 2022 per tutti i profili professionali. Non sono coperti solo sei posti disponibili ma tra gli operatori sociosanitari c'è un'eccedenza di quattro candidati idonei. Ebbene il requisito principale per le assunzioni era quello di aver lavorato con contratti a termine almeno tre anni negli ultimi otto anche in altre aziende sanitarie purché nella medesima categoria della professione. Era anche richiesta la maturazione di tale anzianità di servizio entro il 31 dicembre scorso avendo svolto almeno una giornata lavorativa dopo il 28 agosto del 2015. Le categorie sulla base di questi criteri sono quelle che si identificano come profili medico, infermieri, tecnici, sociosanitari e amministrative. Si tratta di ginecologia, di radiologia, di assistente appunto di amministrazione, di 13 infermieri e di 5 operatori sociosanitari che avevano manifestato l'interesse all'assunzione a tempo indeterminato. Dunque una stabilizzazione di 21 soggetti che così avranno il beneficio di una tranquillità maggiore per quanto riguarda il loro posto di lavoro. Tra domande e offerte il lavoro cerca il dialogo. Prima, dobbiamo dire, erano i lavoratori che cercavano di porsi in sintonia con le esigenze delle aziende, adesso invece sono le aziende che fanno l'incontrario, ovvero cercano di interpretare quello che il mercato del lavoro offre. Confindustria, sindacati e associazioni datoriali hanno creato un tavolo permanente. Baronciani, raccordo con università e formazione a sostegno delle imprese. È un patto questo che è stato realizzato tra questi soggetti per avvicinare domande e offerta di lavoro con un problema di fondo. I giovani fino a 29 anni non cercano un posto di lavoro e quindi occorre incentivare, stimolare questa categoria perché poi il sistema produttivo ha bisogno appunto anche di questi lavoratori. Sala della Repubblica, cantiere chiuso in tre mesi. La Sala della Repubblica è la Sala del Teatro Rossini di Pesaro, di questo abbiamo parlato anche nei giorni scorsi. Comunque in questo articolo abbiamo ancora nuove notizie che vengono date per quanto riguarda la sorte del Teatro Rossini. Invece questo è un articolo preoccupante per quanto riguarda la presenza dell'amianto nella città di Pesaro e qui le istituzioni rispondono con un silenzio assordante. È una denuncia che è stata presentata dalla Presidente dell'Ona. L'Ona è l'Osservatorio Nazionale Amianto. Si tratta di Elisabetta Sacchi che ha evidenziato come molte bonifiche sono state ignorate, un censimento non è stato mai fatto e persistono manufatti pericolosi, segnalazioni ripetute senza risposte. Comune e Regione non rispondono, ha dichiarato questa rappresentante delle esigenze di mantenere la salute e l'ordine pubblico, perché poi l'amianto è un pericoloso nemico che si insidia, perché poi è silenzioso e poi procura danni dopo molto tempo nella città di Pesaro. Purtroppo non si ha la percezione del rischio, perché i tempi di latenza di queste patologie procurate dall'amianto sono molto lunghi, dai 20 a 50 anni, ma l'amianto ricordiamo è un killer silenzioso. Abusa della nipotina acquisita condannato a 5 anni e 2 mesi, si tratta di uno zio orco che ha abusato di una bambina di 12 anni. Gli sono stati attribuiti una serie di episodi. Ebbene, i fatti risalirebbero tra il 2014 e il 2017, quando appunto la bambina aveva solo 12 anni. E poi qui c'è tutta la descrizione di quello che è avvenuto, ma vi risparmio la lettura per quanto riguarda la sintesi di questa notizia. Passiamo invece a Tavuglia. A Tavuglia nasce il polo dell'infanzia, 0-6 anni, Paolucci, benefici per le famiglie. Micronido in via Borgo San Michele a Tavuglia. Il progetto è stato presentato e approvato in consiglio. A Urbino invece si svolge il campionato nazionale delle lingue. In sfida i 40 migliori studenti d'Italia. Finale in presenza. Premiazione al collegio Raffaello. L'emozione della professoressa Rossi. è stato compiuto uno sforzo notevole. Verranno gli studenti del quinto anno di scuola secondaria di secondo grado che provengono da tutto il territorio nazionale. Oggi a Urbino appunto le finali in presenza nella città ducale. E sarà un bel contendere, un bel confronto tra questi ragazzi che parlano le diverse lingue in maniera corrente. Poi vediamo come la dottoressa Lanfranchi, un'eccellenza in pediatria, arriva all'ospedale di Urbino. Ufficializzata la nomina, il nuovo primario arriva dal Murri di Fermo. Ed ora diamo un'occhiata al resto del Carlino dove l'apertura è dedicata ad una promessa che si spera venga realizzata al più presto. Si tratta dell'apertura alle visite del teatro romano. Il teatro si fa bello. L'amministrazione comunale assegna 150 mila euro per riaprirlo, ovvero per mettere le condizioni appunto ai visitatori di farlo in sicurezza. Sopraluogo degli amministratori nell'area archeologica dove potranno entrare al massimo 10-15 persone alla volta in un percorso che ancora è da definire. E i soldi che sono stati stanziati, 150 mila euro, servono per realizzare dei percorsi in sicurezza. Il consigliere Marchigiani, che ha avuto la delega dal sindaco di occuparsi appunto del restauro del teatro romano, chiesto alla soprintendenza di formalizzarci i punti di scavo. Verranno fatti dei saggi per vedere poi come andare avanti con la realizzazione dell'antiquarium romano al posto dell'ex Filanda e soprattutto al completamento degli scavi della cavea della scena del teatro romano. E poi abbiamo anche in questa pagina l'episodio dei abusi e molestie su una dodicenne condannato allo zio acquisito. Ora è avuto cinque anni e due mesi di carcere, la pena appunto di questo zio acquisito, un quarantenne di origini marocchine. Passaggi a quota 10 e c'è anche Guccini. Ieri è stata presentata la decima edizione del Festival Passaggi, che si svolgerà a Fano dal 18 al 26 giugno prossimo. Partirà da San Costanzo, e questa è una delle novità del Festival di quest'anno, partirà da San Costanzo il 18 con l'ospite Veronica Pivetti. Ma i nomi interessanti, importanti, sono tanti che verranno a Fano e verranno anche a San Costanzo in questa decima edizione del Festival. Per esempio i premi che fanno parte del Festival verranno consegnati a Dacia Maraini, per quanto riguarda il premio Passaggi, venerdì 24 giugno, e poi a Divana Monti Barbato, attrice, a cui verrà consegnato il premio giornalistico Andrea Barbato, e poi a Lorenzo Cremonesi, il grande reporter di guerra, a cui verrà consegnato il premio speciale, scusate, a cui verrà consegnato un altro dei premi, appunto, del Festival. Vediamo meglio, perché ci so, c'è un po' qui di confusione. Dunque, il premio Passaggi verrà conferito a Dacia Maraini. Il premio giornalistico Andrea Barbato, consegnato dall'attrice Ivana Monti Barbato all'inviato di guerra Lorenzo Cremonesi. Ecco, abbiamo letto bene stavolta. E poi invece c'è anche un premio speciale, un premio speciale che fa riferimento alla decima edizione del Festival Passaggi, che verrà consegnato a Francesco Guccini. Francesco Guccini è un residente, diciamo così, di San Costanzo e quindi è qui vicino a noi. E poi tanti, tanti altri nomi che correderanno tante giornate di argomenti molto molto interessanti, più attuali, che fanno parte della presentazione dei libri, che fanno parte appunto del Festival, della natura del Festival. Rapina la convivente, fermato un ex poliziotto. Secondo l'accusa, le avrebbe sottratto con violenza, cellulare e bancomat. La compagna ha chiesto aiuto, è stato preso dai carabinieri. È un ex poliziotto originario del sud delle Marche, con diversi precedenti alle spalle e l'altro giorno è stato sottoposto alla misura del fermo dai carabinieri di Fano, con l'accusa di rapina nei confronti della sua ex convivente. E poi un episodio di violenza. Si rifiuta di offrirgli un bicchiere di vino, naso e quattro costole fratturati. Può capitare che mentre voi magari bevete all'esterno di un bar una bibita o un bicchiere di vino, arriva una persona e gli dice ma dai un po' anche a me. Ebbene, voi gliela date, ma la persona non si è contenta, ne vuole un altro. E allora a questo punto uno dice no, se vuoi te lo vai a prendere. E questo qui invece reagisce violentemente con un pugno e vi rompe il naso e quattro costole. Insomma, questo è quanto viene evidenziato da questo articolo ed è accaduto veramente l'altro giorno ad un fanese di 56 anni che ha riportato lesioni e si è visto riconoscere dai sanitari 30 giorni di prognosi. Veramente un fatto dequalificante. 21 chilometri a piedri contro il Mieloma. Domenica 8 maggio, in contemporanea con la Colle Marathon, verrà organizzato sullo stesso tracciato Mondolfo Fano la camminata Olarimba. 21 chilometri contro il Mieloma. E poi una bellissima foto, un bellissimo articolo che ripropone appunto la nomina della dottoressa Lanfranchi, nuovo primario all'ospedale Murri, dall'ospedale Murri di Fermo all'ospedale di Urbino. La dottoressa ha conseguito numerose specializzazioni ed è anche docente universitaria. E questa era l'ultima notizia. Massimo Foghetti vi saluta, vi dà appuntamento domani alle ore 7. Come sempre per le notizie del giorno, occhio alla notizia alle 20.30 di questa sera. Questo è tutto, a risentirci, buona giornata. Grazie. Grazie.